Sì, grazie Presidente. Intanto permettetemi prima di intervenire in replica agli interventi dei colleghi che ringrazio di unirmi al ricordo di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Oggi ricorrono i 30 anni dall'agguato mortale che il 20 marzo 1994 a Mogadiscio ha spezzato le loro vite. Ilaria Alpi è una delle donne che ho citato nel mio discorso di insediamento alle Camere il 25 ottobre di poco più di un anno e mezzo fa, perché il suo coraggio è il coraggio delle donne italiane e credo che a lei tutti dobbiamo essere profondamente grati, particolarmente le donne e quindi anche io le sono molto grata da donna, da collega giornalista, da rappresentante delle istituzioni. Sono trascorsi 30 anni, il cammino verso la verità, sapete meglio di me, non è concluso. Credo che si debba tutti insieme continuare a percorrerlo, perché chiaramente conoscere i nomi e i cognomi degli assassini, dei mandanti, quegli omicidi è anche qui un dovere di tutti. Il mio pensiero, ma penso di poterlo fare a nome di tutta l'Aula e va a tutti i giornalisti caduti nell'esercizio della loro professione, a tutti i reporter che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per raccontarci cosa succede nei teatri di guerra anche oggi in Ucraina e Medio Oriente. Grazie davvero.